ok allora via due sere eccoci qua due sere prima dell'argetto il backstage abbiamo il gruppo lavoro anche lillo che lavora france come mai tu rosa un bambino volerebbe è forte vai 1 2 3 pronti via no vabbè guarda come vola velocissima no vabbè 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 Marona, grazie per la partenza, perché mi costa aiutandosi a prendere il suo spazio per poter farlo spensi. Eccoci, arrivo alla stagione, sono bobetti piuttosto tesi, eccoci qua, intanto le arabesche di latte stanno lavorando di lena, il confezionamento di questi 590.000 cestini, ecco, abbiamo Piero Iervolino, l'organizzatore, Salve, De Noire, ecco il fratello del Salizzone, arrivato a Bologna, la bellissima arabesca Francesca Passaglio, un'altra arabeschina, ciao Ara. Un grande fermento qua, Easy Living, Tamara, qui, danno i desideri, i sogni, sta facendo un sopralluogo meraviglioso. Questo è lo spazio più costante, in posizione molto privilegiata. Grazie a tutti. qui l'iPhone dice che siamo a Scei, c'è ancora un po' di ventistello qua Scei, c'è ancora un po' di venti Scei, c'è ancora un po' di venti Scei, c'è ancora uno Scei, c'è ancora un po' di venti Scei, c'è ancora uno Scei, c'è ancora uno Scei, c'è ancora uno 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 C'è ancora uno